In un periodo come quello attuale, in cui la produzione e l'utilizzo delle energie diventano assolutamente importanti per le più adeguate esigenze dei cittadini, le comunità energetiche si presentano come un elemento di prima necessità, cui tendere perché ci siano solo occasioni positive, allontanando problemi di crisi a causa dei costi elevati per gli utilizzatori. Le comunità energetiche perché rappresentano oggi una significativa forma d'azione collettiva e collaborativa per la transizione energetica, attraverso l'alimentare le proprie utenze con energia pulita, autoprodotta e soprattutto condivisa. Per parlare di questo aspetto a Salcito si è tenuta una prima iniziativa sul tema delle comunità energetiche, ad organizzare il tutto l'amministrazione comunale, il GAL Molise verso il 2000 e l'Egambiente. Un incontro tra l'amministrazione e alcuni enti come l'Egambiente, importanti in questo caso, per far capire alla comunità che cosa sono le comunità energetiche. Sapete che le comunità energetiche aiutano il rincaro vita, aiutano i cittadini a pagare di meno le bollette soprattutto dell'energia elettrica, però la comunità lente che promuove la comunità energetica ha bisogno necessariamente del supporto dei cittadini. Quindi siamo qui oggi a spiegare che cosa sono le comunità energetiche. In un secondo step, questa è la prima parte di un ciclo di incontri, in un secondo step chiederemo le adesioni effettivamente ai cittadini per renderci conto se a Salcito e magari anche nei paesi limitrofi può partire la comunità energetica.